1, 2, 3, 4, 4, sono richiesti di soccorso e come li vede loro? Lo vedono, vedi? Qui c'è le coordinate, poi le piglia, le mette in cardiografia. Queste sono le coordinate, latitudine e longitudine. Lui elabora, gli dà tutta la mappa dei respiratori e la zona... Questo qui è il nostro ospedale, per cui è centrale. E questo qui è centrale, il punto di chiamato è questo. Arezzo è la prima provincia in Italia ad aver introdotto SMS Alert. Un messaggio che arriva dunque nel telefonino, in questo caso di coloro che sono formati all'uso del defibrillatore e che consente in pochi secondi di localizzare il paziente e quindi la richiesta di aiuto. Nel contempo arriva ad Arezzo anche la app che è già attiva in altre città italiane. Una app appunto a disposizione di tutti che è scaricabile nel proprio telefonino, direttamente in rete dai siti delle ASL, della Fondazione Cesalpino e della COP Etrusco. Oltre a localizzare il paziente, fornisce tutte le indicazioni necessarie anche sul massaggio cardiaco e sull'uso del defibrillatore. Da quando un paziente va in arresto cardiaco, si hanno soltanto tre minuti per potergli salvare la vita senza conseguenze. Ancora troppo pochi in Italia, purtroppo, coloro che hanno capito quanto il defibrillatore e le persone formate per il suo utilizzo siano importanti in termini di vite umane. Nel 2010 salvavamo appena otto persone. Salvare vuol dire rimandare al proprio domicilio cittadini vivi e che ritornano alle proprie attività. Nel 2010 iniziavamo, avevamo setto, otto persone che sopravvivevano all'arresto cardiaco. Il 2014 è stato chiuso con 48 persone salvate. Pensiamo che il 2015 verranno salvate sopra le 60 persone. È un risultato veramente importantissimo. Se uno va negli aeroporti americani, vede che sono uno ogni 300 metri. Questa cultura all'estero è ormai diffusa. Da noi siamo ai primi passi. Arezzo è all'Avanguardia. Chi ha coscienza ha già messo il defibrillatore nell'impianto sportivo. Chi ha sensibilizzato il problema e vuole fare uno sport sicuro, già le palestre ce l'hanno, già qualche campo sportivo ce l'ha. Chi non ha coscienza, chi comunque vive alla giornata, che pensa che tanto il problema non lo riguarda, i famosi cialtroni ce n'è tanti a giro. Chi non ha coscienza ha đó sanità. Grazie.